Io devo dire che in Toscana siamo fra le regioni più virtuose, ormai è quattro giorni che siamo su poco più di 300 contagi. Capisco che ci sono regioni in cui sono migliaia e migliaia contagiati, quindi vivono la situazione con più preoccupazione. E quindi è evidente che anche i livelli della gradazione attraverso i colori sono un po' irrigiditi. Ma per noi, anche se l'RT viene portata per l'accesso dalla zona gialla alla zona arancione, dall'1,25 all'1, e quello per zona arancione e zona rossa dall'1,5 all'1,25, per noi comunque siamo a 0,79, rimaniamo in zona gialla e ripartiamo dalla zona gialla. Ringrazio i toscani perché hanno reso questa regione oggi una delle più virtuose sul piano della diffusione del contagio, sul piano dei vaccini, si parla tanto dell'efficienza sui vaccini. La Toscana è la prima per vaccini somministrati agli anziani dell'RSA e è fra le prime tre o quattro regioni nel livello complessivo di vaccini somministrati. Quindi io dico al commissario Arcuri se ci sono problemi in alcune regioni ci ridì a noi perché noi abbiamo messo in piedi una macchina organizzativa che è in grado di somministrare con efficienza e tempestività i vaccini.